Osmani Juan Torena La sera arriva la Finlandia, praticamente già eliminata, ma Juan Torena non si fida e predica tanto, per questo sarà più sciolta, con nulla da perdere, un altro successo da 3.5 qualificerebbe virtualmente tra le 6 di Toruna, ma fare calcoli non è da niente, proviamo a vincerle tutti. L'Italo Cubano parla del suo stato di forma, sono solo all'80%, la stia va molto meglio poi si migliora giocando e vincendo. C'è ancora da mettere a posto qualcosa, ma non vogliamo affermarci qua, siamo stati come meglio non potevamo, ma non abbiamo ancora fatto niente. C'è però una notizia che Juan Torena attende più di ogni altra cosa e che potrebbe allontanarlo per qualche ora dalla nazionale, ogni giorno è buono perché nasca al giorno. Mia moglie Glenda è accettata, se mi vedete scappare sapete non poteva, la famiglia conta più di qualsiasi partita.